3, 2, 1... Inaugurata la sedicesima edizione di Toscana Fashion all'interno delle serie di Toscana Fair. La manifestazione è dedicata a dispositori e buyer del settore delle calzature, in programma fino a martedì 1 ottobre. Agenti di commercio provenienti dalla Toscana e dal centro Italia potranno conoscere in anteprima le collezioni Primavaria Estata 2025. Riparte Toscana Fashion e quindi il settore del calzaturiero con gli agenti di commercio dell'associazione Toscana Fashion si ripresentano ai dettaglianti del territorio del centro della Toscana. Una grande iniziativa che continua anche con la determinazione dei partecipanti in una fase in cui il settore moda sta vivendo a livello mondiale, una fase di ripensamento, di difficoltà, ma qui i nostri 20 agenti con i loro 150 marchi continuano con qualità, dedizione e determinazione a portare avanti un settore che è il settore chiave dell'economia italiana. Come va il settore calzaturiero? Come va? Va come sta andando tutto, non particolarmente bene. Ci sono grossi problemi a livello di commercio, si è perso un po' l'interesse all'acquisto per dare priorità ad altre cose, a servizi, ai weekend e quant'altro. Noi siamo ritornati a Pistoia, siamo alla sedicesima edizione, siamo molto fiduciosi e ci riteniamo un tassello essenziale in questa filiera perché comunque senza di noi a promuovere si fermerebbe tutto il comparto e quindi ce la mettiamo tutta.